Uno contro l'altro, una sfida di parkour dove ognuno dovrà costruire tre percorsi e non uno Il primo percorso sarà da noob, il secondo percorso sarà da pro e il terzo percorso sarà da god Interessante È molto interessante, non sarà semplice, avremo soltanto dieci minuti per costruire tre percorsi E sarà una sfida all'ultimo parkour Sei pronta a fare? No! Andiamo, allora guarda le ceste perché ci sono un po' di blocchi novità Perché ovviamente per riuscire a fare un parkour pro e god ci servono diversi item molto molto utili per il parkour Quindi come puoi notare questa volta abbiamo il ghiaccio che è scivoloso ed è super fastidioso Un po' di cobblestone per poter fare un pezzo con la lava per mettere diciamo ancora più paura nei salti E poi più o meno all'incirca tutto uguale oltre che abbiamo aggiunto anche le slab Che secondo me, ad esempio, io devo essere sincero, è un mio punto debole Io quando sono sulle slab non riesco a saltare bene col mio personaggio Perché ogni tanto non mi prende il salto e schiatto come uno scemo Quindi diciamo che anche quelle non sono banali come possono sembrare In ogni caso farei quindi abbiamo dieci minuti per fare tre percorsi Abbiamo poco tempo quindi ti consiglio magari qualche percorso o fallo da pochi salti Perché comunque il tempo per fare tutto è davvero poco Allora inizia a prenderti un po' tutti i materiali che pensi che ti serviranno Vabbè faccio uno alla volta, faccio prima quello da noob e poi vado Quindi per ora prendo i materiali solo per quello Ok, allora io faccio questo, questo, questo Sto dicendo un pochettino cosa uso e cosa non uso Poi prendo questi e questi sono già troppo pro per il noob Sì 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 Vai 3, 2, 1, via Ok, allora non ho la minima idea di come parlo, devo essere sincero Partiamo con una scala per salire ovviamente nel nostro fantastico parkour Dopodiché io ho pensato se io faccio una roba tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e poi metto questi Non si può considerare difficile Ma allo stesso tempo potrebbe fregare qualcuno Potrebbe fregare ad esempio una fere che lì arriva tutta tranquilla e uè Ma io non sto facendo per fregarlo, lo sto facendo proprio semplice Steph Quindi vedi di non esagerare No, allora deve essere semplice ma può essere un minimo trick Nel senso che ha magari qualcosina che sembra banalissima ma che in realtà può farti cadere No, il mio è proprio semplice Ok, va bene Punto su quello semplice Va bene, ok, distruggo questo blocco Cioè, dai, non si può considerare difficile, guardate Si parte da qui Non c'è nulla di difficile per adesso Ok, allora deve essere ancora più va Ci abbiamo un minuto su dieci consumato Io ho quasi finito la versione Eh, io volevo fare qualcosina diciamo per chiuderlo carino Ok, va bene Ci provo, ci provo, vediamo come va Allora, facciamo Ma porca miseria, sono caduto mentre costruivo Lo faccio davvero piccolo perché sennò qua si perde troppo tempo Così, così, così E poi facciamo Ta, ta, ta Secondo me così è perfetto Quindi il primo, io l'ho appena completato Questo qua È il parkour da noob Lo faccio al volo per ricontrollarlo Ma mi sembra che vada più che bene Sinceramente non mi sembra difficile Ma può fregare qualcuno Secondo me Quindi facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Stavo per cadere Io starei attento al posto tuo Ok, sì Quello da noob è pronto Ho fatto in un minuto e 45 Passiamo a quello da pro Ok, anche il mio è pronto Anche il mio è pronto Quindi io torno un attimino alla cesta E sinceramente mi inizio a prendere tutti i materiali Perché tra pro e god dovremmo utilizzare tutto Già pro deve essere Deve essere abbastanza difficile Pro è difficoltà Media Più o meno normale Media, esatto God deve essere Non dico con salti impossibili Ma che proprio pensi Ma davvero si può fare sta roba Capisci? Cioè proprio Lì ti devi impegnare Infatti L'obiettivo è arrivare con 5 minuti disponibili Per fare quello Perché altrimenti La difficoltà a god si sfruta poco E siamo a 2 minuti e 15 cara Il primo l'hai finito anche tu? Sì, sì L'ho finito esattamente quando l'hai finito anche tu Ok, perfetto, perfetto, perfetto Il secondo Io me lo metto qui E voglio fare una roba Che secondo me Mette difficoltà Facciamo così Allora Mi muovo Stiamo a terra Va così ci mettiamo meno Facciamo Ta Ok Perché non mi do mai le cesoie Per rompere più in fretta la lana? È una buona tattica Steph Perché ti dimentichi? Non lo so Io non lo so Comunque Ferri Ti sto preparando un bel parkour Con il ghiaccio Anche io volevo mettere il ghiaccio Ancora non l'ho messo Però lo voglio mettere Quindi sappilo Ok Dovrebbe fare, giusto? Vediamo Ui Ok, sì Sì, 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 sì Ci sta, ci sta, ci sta Funziona Funziona, funziona Poi facciamo tipo Ta Allora Ta Ta E distruggiamo Poi andiamo Mi sto ingegnando Sta andando bene Rispetto all'altra volta Devo dire che sono molto più veloce a costruire Mi sono un pochino abituato Eh beh, sì Io giustamente Giustamente Anche tu ti senti un po' più veloce? Sì Un minimo di esperienza in più Quindi ci sta Perfetto 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 Ok Ultimo salto Che facciamo una roba del genere E secondo me All'incirca ci siamo Anche per quello pro Vediamo un attimino di provare E vediamo quanto può essere difficile Siamo a 4 minuti in questo momento Fere Ok Ok Però perché ho l'auto jump Adesso poi mi ho disattivo Ogni volta mi devo riattivare Eh vabbè devi stare attento Una volta sono caduto Vediamo se ricado Il ghiaccio è fastidioso Eh il ghiaccio Io te ne sto mettendo parecchio di ghiaccio È davvero fastidioso Vediamo un po' Ok Poi Ta Ta Ok Questa lo voglio mettere Ta Sì 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 Mi piace Adesso facciamo così 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 E dovrebbe essere fattibile come salto Non ho idea Adesso vediamo un attimino Se non è fattibile mettiamo una bella scala E direi che andrà più che bene Il pro Fere devo dire che ho fatto un bel lavoro Secondo me Ok Devo dire che qua ha fatto davvero un bel lavoro No anche a me sembra carino Cioè sinceramente non è troppo esagerato Perché comunque non lo voglio fare neanche enorme Però mi sembra carino Adesso poi lo dovrò provare Però mi sembra molto carino Allora Dato che la versione è pro mettiamo questo Perché secondo me comunque è fattibile Però non posso rendere le cose troppo difficili già col pro Ok allora io sono a 5 minuti tondi E ho finito anche la versione pro Quindi adesso passo alla versione god E avrò 5 minuti per inventarmi qualcosa di simpatico Allora prima di tutto Mangiamo la mia carne Ok E direi di farlo sempre qui Però devo dire che non ho molte idee Le tue idee per fare il god No sinceramente no No vero Ok allora Almeno non sono l'unico Ma questo secondo me basta così Mo lo devo riprovare Però secondo me questo basta E passo poi al god anche io Ok Vediamo come andrà Allora Vediamo un pochino Possiamo fare Qualcosa così Non lo so 13 minuti Ti ho lasciato un po' di tempo in più Perché devi fare la spia Steph Perché Bisognava dirlo Bisognava dirlo Allora Benvenuta nelle mie prove Questa è la versione noob Questa è la versione pro Ok E questa è la versione god Ok Guardatele un pochettino consolini Ora ti spiego Perché ne abbiamo fatto 3 E non 1 Come sempre Fer Ti spiego Molto 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 semplice La versione noob Ogni volta che tu fai un errore Vale 3 errori E beh è anche giusto Non puoi sbagliare Ogni volta che sbagli Vale 2 errori È soltanto la versione god Quando sbagli Vale un errore Ok cara Ok Quindi diciamo che Nella versione noob Nella versione pro Dovrei stare molto attenta Che poi Vada pure Sto guardando Il tuo non è che sia proprio noob noob Il mio è noobissimo È il tuo noob Prova Secondo me riesci tranquillamente Nel senso Non c'è nulla di troppo difficile Ok Brava L'importante è non andare con leggerezza Ma se non vai con leggerezza Non c'è nulla di difficile Ok Ok Ho saltato direttamente il blocco Opla Visto Finito Senza nessun errore Te l'ho detto Era noob Anche se poi Un po' fregava Perché ti viene da prenderlo Molto semplicemente Infatti se non mi avessi detto Tu Quell'accorgimento Secondo me Sarei andata dritta E mi sarei schiantata Lo so Te lo dico Era quello l'obiettivo Allora la versione pro Devo dire che è abbastanza pro Non sono andato leggerissimissimo Quanto si scivola Se non l'avessi premuto contro Sarei direttamente alla fine del parkour Esagerata Vai Mamma mia Allora concentrazione Mi raccomando Ok Ok Cioè se non premi Non premi Il tasto fa cuciarti Ok Ok Piano Questo salto secondo me È abbastanza semplice Brava Questi non mi piacciono Se tu odi le slob Io odio quelli fini Che sono metri Che sono pens Ma anche a me mettono ansia questi Questi sono davvero fastidiosi Infatti qui è il momento in cui Io lo so già che sbaglierò E infatti Ok Quindi due errori Io me li segno con il ghiaccio Va Ho deciso Che oggi metto il ghiaccio Ok Attenzione Non l'hai visto questo? Sì che l'ho visto L'hai visto L'hai visto benissimo Anche perché tanto io ne farò tanti Quindi almeno Devo segnarli tutti 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 È delle bistecche Stef Sì Ho fame Eh Ti lancio Aspetta Vai fare Aspetta No 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 Le voglio dopo Quando cado Quando lo finisco Ok Brava Sei riuscita a tornare lì Con grande abilità No ma cioè Non fa Salti troppo Eh lo so Ma non fa Tieni Ok Devi saltare A due volte più tranquilla Capito Saltellino sobrio Attenzione Il primo l'ha fatto Ok Ok a due Ne manca solo uno No è difficile Cioè Non fa Stef Messo di così Non lo vedi Dovevi metterlo Gritto come questo Sali lì Sali lì Riparti da lì Dove? Mi pace Io sto qua A guardare E a contare Non posso fare altro Perché ho provato ad aiutarla Ma lei non vuole aiuto Nessuno vuole aiuti qui Attenzione Però sembra Guardatela eh Sta diventando bravo Oh No Non ti ha preso control No non l'ho premuto io Perché pensavo Di partenza Di aver sbagliato E invece era giustissimo Attenzione Ci sono Un po' di ansia Fede Adesso sbaglio l'ultima Lo so Ok Andata Andata Quanti errori sono tantissimi Eh tantini eh Uno due tre Quattro cinque sei Quindi dodici Sì Ho già dodici punti Guardate Comunque Giusto perché voglio Giustificare Ma è caro Però No aspetta fallo Fallo quell'ultimo Perché questa secondo me È l'inghippo Questo Devo davvero mettermi a rifarla Sì 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 fatelo Perché non mi fido Perdere tempo Ma non metto Non l'hai neanche provato Guarda Vai 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 Qui ti voglio vedere Non ti volevo vedere nel resto Vai Ok Dimmi che non è difficile Da vedere Non capisci Dove ti devi fermare Passiamo al god Fede Quanto vuoi far durare Questa sfida 73 ore Sì Siamo ancora al mio god Dai Dai Su 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 Qua ci sono delle meccaniche Che Fede potrebbe non conoscere Che a malapena conosco Era ovvio Cioè mi dici Meccaniche Che potrebbe non conoscere Ho detto Dovro usare sicuramente quello Ok Ok I prossimi due salti Sono la parte difficilissima Oh Non ci credo Non ridere Sto ridendo io Ma non ridere neanche tu Ok Non mi prende il tasto Non mi prende il tasto Io finisco il video E lancio la tastiera Dalla finestra In mezzo alle auto E creo un incidente Steph Lo creo Mi sono rotta le scatole Non mi piace più Sta sfida di parkour Cosa c'entrava l'incidente Poi Perché mi devo sfogare Contro qualcuno Scusami eh Ci deve passare qualcuno Mi sembra giusto Quello che sto passando io Ma è bravissima Io questo tanto Non lo so fare Con così tanta semplicità Non riesce a saltare Non permette di saltare Sì sì Non permette di saltare La barra Secondo me Non lo so se non lo permette Forse ti devi centrare Un pochino meglio Stai troppo nel bordo Della barra E quindi non riesci più A saltare il personaggio Comunque Considera che qui È solo un errore alla volta Quindi rispetto al pro Non è nulla di grave E io pensavo che L'erombar ti mettesse Tanta difficoltà in più E vabbè Guarda dopo che ho passato 20 minuti con quello specchio È vero È vero Si è allenata anche il modo C'è specchio Glasspan Vedi però Da Nubapro a God Sta migliorando anche nel parkour Nel mentre Dovrebbe anche pagarmi Allora Esatto Non è che cado Non lo so Forse sì No Ok Brava Ci sono Ok sai cosa fare Mi faccio il percorso Esatto Infatti questo era un tricky Volevo vedere se ti riuscivo a fregare E ce la fa signori Vedi allora Step ti devo dire una cosa Questo non è solo un percorso Da Nubapro Tanto per Ti fa proprio diventare Da Nubapro Hai visto Ho sentito dei miglioramenti Ti giuro che per la prima volta In vita mia nel parkour Ho sentito dei miglioramenti 14 errori Secondo me non sei stata Nemmeno troppo grave Eh no certo Non vorrei dire ma Rischi di vincere di nuovo E secondo me comunque Hai fatto più difficile Il pro del Addirittura Sì secondo me era più Io da farlo Avevo più difficoltà Per me Per le mie capacità E la mia scarsità Contro le cose fini Sinceramente è stato più Ok Più difficile Un attimino che qua Ho fame L'autogjump Ancora Ho fame E beh sì Ho sprecato tantissimi Che magna questa Tante energie Però sei un po' figliacca Te con quello specchio finale Ok Dai questo Il primo senza errori Era semplicissimo E addirittura Ho messo le scale Proprio per essere Ancora più nubi Eh sì 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 Perché se sbagli Anche un salto così C'è semplice comunque La salvezza della scala Capisci Allora uno Ok 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 Dannazione C'è il ghiaccio Hai visto quanto si scivola? Pensavo di essere caduto Ok Un errore Aspetta Devo andare a prendere dei blocchi Ah no Due errori Due errori Esatto Allora Io comunque ho fatto anche quello Quello da pro Che mi sembra abbastanza semplice Io te lo dico Stef Sì ma perché io sono scarso a usare control È il mio punto debole Ok ok no 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 Infatti Quattro Non avevo neanche segnato Uno due tre quattro Ok Porca miseria Ok Ok Vai dai Stai facendo le parti più difficili Eh lo so Perché vedi che non le ho fatte neanche troppo fini È fastidioso il ghiaccio eh Ti ho messo le fence e le cose da due Giusto per non farti rischiare troppo Ok Ma mi sento in colpa Finito Il mio era troppo più difficile Te l'ho detto Tu mi hai detto non esagerare Fai difficile quello da Ah vabbè Scusa Vabbè però teoricamente io non sono migliorato abbastanza col pro Ma non lo so E quindi il god diventa indecifrabile Ok Sei già caduto E sono scivolata all'indietro Mala vero Sì Fammi andare a mettere Ero distratto Uno Uno Ok Ok vai Questa è una cattiveria bella e buona Ecco qua Uno Aspetta ti guardo da lontano perché fare avanti e indietro Sì 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 ti conviene Ok Devo capire se si può fare senza shift Due errori Allora Un altro errore È finito dai la parte più semplice Ok Anche questo è fattibile Ecco qua Ti stavo per dire ho provato proprio il pezzo e così via Steph Ma cioè voi spiegatevi Adesso andiamo un po' oltre i miei errori Come ha fatto a costruire questi tre percorsi in così poco tempo Vabbè mi hai dato qualche minutino extra Però mi hai fatto diventare cattiva quel parkour Ho anche perso il conto degli errori ormai sinceramente Vai Ma dai Steph E concentrati che lo stai facendo apposta Bravo Ma che apposta Magari Ok Mi devi stare attento perché rischi di cadere dentro la lava Ma tu cadi nella lava E poi questi due Dopo che vai fare questi parkour a Steph Finito Ti sono piaciuti? Sì Li hai fatti davvero bene Grazie Però Io pensavo che questa volta mi sarei rifatto sulla sfida E invece niente Perché te l'ho detto non sta tutto nella vita No ma vabbè Ma secondo me guarda che il mio Però il mio god erano fatti davvero bene Ma il god non so come l'hai fatto da Dio No ma non so come l'hai fatto da Dio